Di nuovo in partenza per dirigerci in aereo dall'Havana a Santiago. Arrivati all'aeroporto siamo saliti con i nostri bagagli su un pullman messoci a disposizione dall'Agenzia di Viaggi e siamo andati a visitare l'antico castello di San Pedro della Roca noto anche come Castillo del Morro progettato dall'italiano Battista Antonelli e costruito nel 1663. È sicuramente il più belforte da visitare a Cuba sia per la posizione strategica e perfetta sulla baia sia per la struttura stessa ben conservata e particolare essendo a scalinata fino al livello del mare è tutta percorribile. Nel suo interno è visitabile un museo. È posizionato a circa 10 km a sudd'oveste dal centro della città. Dalle sue mura si gode una vista spettacolare e indimenticabile. iscriviti al nostro canale. iscriviti al nostro canale. iscriviti al nostro canale. iscriviti al nostro canale. terminata la visita siamo andati a riposarci in un bar-ristorante vicino alla fortezza dove alcuni di noi hanno gustato l'ormai noto aperitivo Mojito o mangiato un panino con prosciutto e bevuto una birra. ci troviamo a passeggiare per la città vecchia di Santiago e precisamente in centro nella piazza Cespedes dove si trova anche l'imponente sua cattedrale dove dal suo balcone Fidel Castro fece il suo famoso discorso il primo gennaio del 1959 dichiarando che la rivoluzione aveva trionfato. vi si trova anche un grande e famoso albergo l'hotel Casagrande in stile coloniale. L'edificio più antico della piazza e di tutta Cuba è però la casa recentemente ristrutturata del conquistatore spagnolo Diego Velasquez che fu il primo governatore di Cuba fu costruita tra il 1516 e il 1530 la piazza ha molti alti alberi e panchine in ferro ed è piena di vita ci sono venditori, ambulanti, tassisti, turisti, cantanti, ballerini, maghi ed anche molti mendicanti nella piazza di Bambini c'è una mescolanza tra la musica africana e quello che ne apportano i cubani, utilizzando solamente gli strumenti musicali che si sono portati dall'Africa. La musica africana e quello che si sono portati dall'Africa. La musica africana e quello che si sono portati dall'Africa. La musica africana e quello che si sono portati dall'Africa. La musica africana e quello che si sono portati dall'Africa. In puro stile sovietico per grandi adunate con centinaia di migliaia di persone, dominata dalla statua equestre in metallo del generale Antonio Maceo, che con la sua mano invita ad unirsi alla lotta, contornata da una ventina di macete, pugnali o spade, stilizzati e rivolti verso l'alto, simbolo delle lotte di indipendenza. Dopo aver pranzato in questo ristorante ci siamo trasferiti e sistemati nel nostro albergo Melia Santiago a 5 stelle. La musica africana e quello che si sono portati dall'Africa. La musica africana e quello che si sono portati dall'Africa. dove c'era un bar con terrazza da dove si godeva un bellissimo panorama notturno. E poi siamo restati dentro il locale a vedere lo spettacolo musicale che era in programma per quella sera. La musica africana e quello che si sono portati dall'Africa. La musica africana e quello che si sono portati dall'Africa. Grazie a tutti. 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 Terminato il pranzo, siamo andati a trascorrere un po' di tempo alla casa della Trova, della città. Un tipico ritrovo di musicisti e amanti del ballo, una vera istituzione. Questa casa, di aspetto modesto, ha sempre accolto i tipici ritmi cubani. Continue musiche indiavolate vengono suonate nel suo interno, tappezzato ovunque con foto di musicisti celebri. Questa casa, di aspetto modesto, ha sempre accolto. 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 Tornati all'albergo abbiamo cenato e dopo siamo saliti come ieri sera al quindicesimo piano a vedere un altro spettacolo musicale di varietà. Grazie per la visione! 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.